Buongiorno a tutti. Appena finita la finalissima del Winter Edition della Trading League, uno dei due partecipanti ha perso, ma è stato bravissimo in finale e soprattutto nelle qualificazioni, David Velvety. Due domande per lui. David, qual'era il tuo sentimento con la competizione? Hai piaciuto? Sei piaciuto? Anche se hai perduto la finale, ma sei ora più famoso da prima. Sì, è vero. Grazie per questo. Sono davvero molto felice. È stato divertente. La competizione è un po' differente da la tradizione regolata, ma ho davvero piaciuto l'atmosfera. È tutto molto bello. Grazie a Giovanni. Ha fatto un lavoro molto honesto e prudente e mi distrò. È molto bello. Ok, David dice che per lui che fa un trading, diciamo, più legato ai software, all'algoritmo, partecipare a una finale dove è un po' all-in, diciamo così, è stata un'esperienza nuova, però un'esperienza positiva. Dice complimenti a Giovanni che mi ha distrutto, diciamo, in finale, ma evidentemente c'è la possibilità di rivederlo. Quindi, David, speriamo che ci vediamo in una prossima edizione di Tredin League, per provare a essere, diciamo, il winner, così che puoi partecipare in finale. Thank you so much for the moment, and enjoy your time in Czech Republic. Thank you. Thank you. Have a great day.